Un simagno nero si apre, rumore di pellicola, la platea cucina, cambio scena! Siamo inizi, ma alla fine non ci siamo, questo è bello! Ti regalo la mia morte Veronica, è uno spettacolo che nasce nello scorso maggio, è ripreso quest'anno da novembre, saremo in giro fino alla fine di marzo in Italia, ma anche per alcune datestere, scritto da Antonio Latella e Federico Bellini, Antonio Latella è anche il regista, è interpretato da una compagnia di 11 attori. Io faccio Robert Krohn, Monica Biseddu è la protagonista, Veronica Foss, e poi ci sono Valentina H che fa Harriet, Caterina Carpio il Grete, Nicole Kerberger il Josefa, Estelle Franco la dottoressa Katz, Maurizio Rippa fa il poliziotto, Fabio Pasquini l'ebreo e il regista. Poi ci sono Massimo Arbarello, Fabio Belliti e Sebastiano Di Bella che fanno soprattutto teatro d'ombra. Loro durante lo spettacolo dal vivo costruiscono alcune immagini, proiettate su una grande pelliccia che fa da sfondo alla scenografia, che sono molto belle e poi servono, sono molto importanti in alcuni momenti dello spettacolo. Oggi Veronica Foss è un'attrice che fa delle domande, cosa è vero, cosa è falso, se l'arte aiuta a capirla meglio la realtà, sollecita gli spettatori a pensare a questo, a farsi delle domande su questo rapporto tra arte e vita, tra realtà e finzione. Nello spettacolo c'è un gioco di specchi tra tanti piani, di realtà, tante dimensioni, quindi è uno spettacolo in cui ci si deve lasciar prendere più da visioni, da suggestioni visive, sonore. Più che parlare di un'alterazione, lo spettacolo è un'alterazione, per cui non c'è, secondo me, tanto bisogno di capire e individuare esattamente la storia. Punto esclamativo, trattino, virgolette, punto al capo, punto! Credo stia un po' cambiando proprio il modo di fare teatro, di produrlo, di veicolarlo. So che oggi ci sono tanti registi, tanti artisti che lo fanno, e lo fanno con sincerità, con forza, con energia, con la voglia davvero di riuscire a farsi sempre di più delle domande. È vero che gli attori riescano in qualche modo a stare più insieme, oggi più che mai in questo momento in cui le cose stanno davvero cambiando. Grazie.